Oh mio Dio ragazzi, la TV ho detto che il mondo sta per esplodere! Non preoccuparti amico mio, una soluzione c'è! Team Noise Plus... In azione! Federico! Ha il potere del super udito! Luca! Possiede il dono dell'Alpha Channel! Cristiano! Riesce a vedere attraverso l'hardware! Alessandro! Ha il super potere della realtà aumentata! Dennis! Riesce a volare con la fantasia! Axel! Può modificare qualsiasi opera d'arte con la sola forza del pensiero! Grazie a tutti